Benvenuti ad Hamburgo per un'edizione della Wattenfall 6 Classics che rischia seriamente di servire una beffa ai protagonisti più attesi. A 20 km dall'arrivo infatti i fuggitivi hanno ancora 2 minuti di vantaggio, e vediamo che fra questi si avvantaggia Bobby Ungels seguito da Ioni Zagirre e poi da Eberle Van Dusselaar. Nello stesso punto c'è lo scatto di Rui Costa, consapevole che il gruppo rischia di non rientrare in tempo sui battistrada. Ed ecco che il campione portoghese si lancia in un disperato tentativo di rimonta solitaria. Già ripresi Eberle Van Dusselaar, ora nel mirino c'è lo spagnolo Ioni Zagirre ma poi mancherà ancora Jungels, che ha ancora un minuto da gestire. In testa al gruppo inseguitore, non inquadrati, ci sono invece gli MTN per Boasso Nagen. Ed ecco che Rui Costa raggiunge Ioni Zagirre su quest'ultimo strappo a 10 km dall'arrivo e tira subito dritto, nella speranza di riuscire a riprendere anche Jungels. Il gruppo a sua volta non è lontano e sta andando a riprendere Eberle Van Dusselaar. Bobby Jungels ha scollinato anche l'ultimissimo strappo che ancora mancava e come vedete conserva ancora un margine abbastanza rassicurante su Rui Costa. Il portoghese passa con circa 40 secondi di ritardo e ha ancora qualche possibilità, mentre alle sue spalle vediamo che ormai c'è il vuoto. E anzi i Tugas cercano di rompere i cambi alla MTN. 5 km all'arrivo e prosegue il testa a testa tra Jungels e Rui Costa. Il vantaggio dell'ussemburghese è sempre più ridotto, ma sempre più ridotta è anche la distanza che deve coprire per giungere all'arrivo. Eccoci ormai in vista dell'ultimo chilometro. Vediamo che Rui Costa sta producendo il massimo sforzo per rientrare su Jungels, ma ormai sembra essere troppo tardi. Ancora 20 secondi, mentre da dietro sopraggiunge il gruppo con Spilak che tira la volata a Blight. E Bobby Jungels può alzare le braccia al cielo, il Gran Premio di Hamburgo 2017 è suo. E si tratta senza dubbio della vittoria più importante nella carriera di questo giovane di grande avvenire, che lo scorso mese di luglio aveva conquistato a sorpresa la maglia bianca del Tour. Per i Tuga su un ordine d'arrivo Beffardo, che li vede centrare il secondo, terzo e quarto posto con Rui Costa, Blight e Spilak. Quest'ultimo comunque si consola tornando al comando della classifica di Coppa del Mondo, grazie all'assenza di Saddam che per la prima volta non ha preso punti. Ora tra i due ci sono 30 punti quando al termine mancano tre prove, le due canadesi e il Lombardia. Damburgo è tutto, appuntamento a settembre per la Coppa del Mondo, e a prestissimo per la volta a Portugal. Grazie a tutti.